Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovissimo video parlando ancora di Grande Fratello VIP perché stanno facendo discutere le ultime due squalifiche che ci sono state, anche se tutto ha avuto una radice. Il principio è dell'esattamente del 3 di marzo, quando c'è stata una puntata in diretta. È stata una decisione importante, storica, quella di andare a cancellare l'appuntamento del sito e non mandare in programmazione la replica sul canale La5, arrivata direttamente dai piani alti o decidono tutto loro, si sa, e quando Piersilvio Berlusconi decide una cosa è legge perché lui è l'amministratore delegato del gruppo Medeset, è colui che paga e chi paga ha sempre ragione. A causa della nuova linea presa dal GF VIP 7, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro sono stati squalificati e parlando di questo argomento a Casa People. L'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace ha commentato il provvedimento dei due ormai ex concorrenti e le possibili conseguenze del reality show. Io sono contro il politicamente corretto, ma proprio contrarissima. Io sono una scorretta anche politicamente. Il politicamente corretto elimina la spontaneità, l'umorismo e l'ironia. Non mi piace il moralismo. Poi in questi giorni in TV è successo di tutto con gente che dice cose che non dovrebbe dire. Gente di una certa età ha detto cose da non dire. Tipo Sgarbi e Lippi? Sì, potevano stare zitti. Non hanno detto cose né intelligenti, né spiritose, né puntuali. Anzi, hanno messo in imbarazzo. Hanno fatto polemica sul «ca» detto dall'annunziata, ma questo lo dicono tutti. Anche al grande fratello VIP lo hanno detto, ha detto ancora l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Il legale si è detta contraria alla squalifica dal GF VIP 7, e poi ne hanno squalificato solo uno. Questo a me non è piaciuto. Anche se non ho seguito bene come l'anno scorso, questa edizione era più poverella. Perché se la sono presa solo con Edoardo Donna Maria? Ha solo detto «mi hai rotto il ca». Lo si sente ovunque. E anche l'altro che ha preso per il collo la spagnola, si vedeva che scherzava. Allora erano da squalificare tutti, perché tutti dall'inizio sono scorretti dal punto di vista lessicale. A questo punto l'avvocato ha anche parlato delle possibili conseguenze che potrebbe avere il GF VIP 7 se uno dei due squalificati dovesse fare causa. Se uno squalificato viene da me come cliente, io farei la causa, chiederei un risarcimento. Questo perché c'è stato un atteggiamento non condivisibile che ha rovinato la mia immagine. Poi bisogna vedere come sono i contratti. Se c'è scritto che se uno dice una parolaccia può essere squalificato.